Una denuncia verso i gnoti per la morte di alcuni cani. Il caso scoppia a Capaccio Pestum, dove sono stati ritrovati alcuni esemplari deceduti per il ravvelenamento. A sporgere la formale denuncia alle forze dell'ordine, sarà l'associazione Diamoci una Zampa. Lo scrive in una nota Carmine Quaglia, che spiega cosa è accaduto a Gromola in questi giorni. Dopo l'episodio di avvelenamento accaduto qualche giorno fa a Capaccio Pestum, ci è giunta da poco la notizia del ritrovamento di alcuni cani morti in località Gromola per avvelenamento. vicino alle povere anime rinvenute polpette con veleno. Poi Quaglia prosegue. È incredibile come questi soggetti arrivino ad essere così crudeli verso gli animali, la cui unica colpa è di calpestare qualche piantina nei tanti terreni agricoli presenti in zona. Per quanto è accaduto, l'associazione Diamoci una Zampa procederà con una denuncia verso i gnoti.